salve a tutti ragazzi nel gioco ci sono un totale di sei costumi bonus traslasciando ovviamente quelli a pagamento ne abbiamo tre per leon e tre per ashley di questi sei costumi i primi due per entrambi sono quelli con cui i nostri eroi saranno vestiti nel gioco se nella prima e nella seconda parte della storia mentre l'ultimo avranno quindi un costume bonus a testa per leon avremo il costume gesato mentre per ashley avremo l'armatura i costumi possono essere selezionati solo dal menu principale noi potremo cambiare durante la partita solo gli accessori ma il costume dovremo sceglierlo prima di entrare nel salvataggio noi avremo poi quel costume in tutti i nostri salvataggi allora per sbloccare tutti i costumi tranne l'armatura basterà finire il gioco una volta in qualsiasi difficoltà avremo sbloccato tutto compresa compreso il costume gesato di leon mentre se vogliamo l'armatura di ashley dovremo per forza di cose finire il gioco o in modalità estrema o professionista con un grado a o superiore e l'armatura sala sarà nostra vi devo dire che l'armatura è quasi indispensabile se volete finire la modalità professionista con il grado ss più in quanto rende ashley completamente invincibile invulnerabile diventa una super eroina che non può nessuno può uccidere esistono solo un paio di situazioni dove se la lasciamo indietro la perdiamo ma quindi avremo la missione fallita ci mostrerà che ci porteranno via ma per il resto lei non può essere uccisa o trasportata da qualcuno il che la rende ovviamente incredibilmente forte e divertente quindi vi consiglio di far vostra allarmatura a qualsiasi costo e questo è quanto ragazzi grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata